L'elemento più prezioso che noi abbiamo a disposizione quest'anno, sapete che cos'è? Non è quel che noi docenti sappiamo o quello che abbiamo già fatto in questi anni di lavoro. Alcuni di noi sono anni e anni che iniziano un anno scolastico. L'elemento più prezioso è il desiderio e l'attesa che voi avete questa mattina. Questo è l'elemento più prezioso, la vostra attesa, il vostro desiderio che accada qualcosa di bello per voi. Buongiorno, buongiorno, ben trovati! Lo scopo della scuola non è aprire dei libri. Lo scopo della scuola è aprirsi alla realtà. I libri che voi studierete, che avete studiato, sono solo il deposito di scoperte, di lavoro, di sacrifici, di studio che è stato fatto da migliaia di persone prima di voi. Qualunque cosa uno faccia deve andare sempre più in là. Questa frase di un astronauta ci aiuta a capire un pochino di più di cosa si tratta, perché dice è parte dell'umana natura tendersi, andare, vedere, capire. L'esplorazione non è un'opzione realmente, è un imperativo. Quindi l'esplorazione non è una cosa che uno decide di fare, perché gli è venuto un brillo la mattina. È parte della nostra natura, ok? È parte anche della vostra, anche se non vi sentite esploratori, ok? Però pesca anche in quello che siete voi, ok? Anche in questo inizio dell'anno per i nuovi e anche per i vecchi. Io vi auguro che ogni mattina venendo a scuola abbiate questa aspettativa. Avete mangiato, eh, quest'estate, gravi!